E' stato catturato martedì il lupo che si aggirava dalla scorsa estate anche nel centro abitato di Potenza tra la curiosità e le preoccupazioni dei cittadini. Diverse le segnalazioni arrivate al sindaco Mario Guarente che aveva emanato una specifica ordinanza per vietare ai cittadini di avvicinarsi e a dar da mangiare alla fauna selvatica. Alcuni volontari infatti portavano cibo all'animale che in realtà non si sa con certezza se si tratti di un lupo o sia un ibrido.